Buongiorno. Quando noi parliamo e scriviamo, nella vita di tutti i giorni, così come nei testi letterari, non comunichiamo soltanto attraverso ciò che diciamo esplicitamente, ma anche, forse soprattutto, attraverso ciò che non diciamo in modo esplicito, ma diamo semplicemente per presupposto. Come lettori, quando affrontiamo la lettura di un testo a vari livelli, dobbiamo sempre fare i conti con informazioni implicite, con il non detto. A volte non ce ne accorgiamo neppure e procediamo nel percorso della comprensione. Altre volte, il non detto può essere causa di inciampi o di brusche cadute nel percorso verso la comprensione piena di un testo. Sono molti i motivi per cui noi, spesso senza neppure accorgercene, lasciamo implicite delle informazioni. Questo video è quindi dedicato alle informazioni implicite che incontriamo nella lettura di un testo. Per entrare in questo tema dobbiamo anche premettere che si tratta di un argomento complesso, molto dibattuto dagli addetti ai lavori e non sempre con risultati univoci. Molte nozioni sono legate a specifiche tradizioni di studi, linguistica, psicologia, pedagogia, filosofia, con terminologie tecniche che a volte possono risultare contrastanti. Senza addentrarci troppo, a un livello più semplice e intuitivo, è molto utile far riflettere i nostri studenti di tutti i cicli scolastici sul fatto che quando capiamo un testo scritto orale, abbiamo, senza essercene accorti, esplicitato qualcosa che era implicito. Rendere consapevoli di ciò che un testo non dice, ma che noi capiamo ugualmente, è un'ottima palestra di lettura e di ragionamento. Prima di addentrarci, con la seconda parte del video, nel modo con cui le prove invalsi sondano la capacità di esplicitare informazioni implicite per verificare la comprensione del testo, vediamo alcune tipologie di informazioni implicite. Un primo caso riguarda informazioni semplicemente date per scontate, su cui siamo sicuri che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Se un testo inizia con la frase ieri sera ho cenato alle 5, diamo per scontato che chi ci ascolta o ci legge sappia cos'è una cena e a che ora nella cultura italiana si ceni normalmente. Diamo per scontato che si tratti delle 5 di sera, una cena anticipata, e non pensiamo possa trattarsi delle 5 del mattino. Non sentiamo la necessità di spiegare cos'è una cena perché presupponiamo che chi ci ascolta lo sappia già. Magari ci aspettiamo che chi legge colga la particolarità della situazione in cui la cena avviene prima del solito. Un implicito nella cultura italiana in cui si cena normalmente più tardi. Un implicito che potrebbe non essere colto in una cultura in cui è normale cenare nel tardo pomeriggio. Pensiamo ai paesi anglosassoni. Altre volte l'informazione implicita può essere nascosta nella semantica delle parole. Luca ha smesso di andare a correre ogni giorno. Qui la semantica del verbo smettere ci porta a presupporre che prima Luca corresse ogni giorno e a un certo punto per qualche ragione ha smesso. Il testo non lo dice espressamente ma noi lo ricaviamo dal significato della parola, del verbo. Si parla in questo caso di presupposizione. In altri casi ciò che si dà per implicito può essere legato al rinvio a informazioni più sottili o legate alla cornice che per varie ragioni chi produce il testo non ritiene necessario esplicitare. Vediamo un esempio proposto da Lerida Cisotto in didattica del testo. Gianni aveva molta fama quando entrò nel ristorante. Prese posto ad un tavolo e notò che il cameriere era vicino. Improvvisamente però si accorse di aver dimenticato gli occhiali da vista. A cosa servono gli occhiali da vista a Gianni in ristorante? Il lettore esperto, senza grandi sforzi, risponde facilmente a questa domanda. Gianni deve leggere il menu. Pensiamo tutti al menu ma questo non è menzionato nel testo. Per dare un senso al testo dobbiamo rappresentarci la situazione e attivare un processo inferenziale. Processo che sarà facilitato dalla nostra conoscenza del funzionamento dei ristoranti. Un ipotetico lettore che ha sempre mangiato a casa propria e non ha mai visto un ristorante dal vivo faticherà molto a dare un senso al testo che abbiamo visto. In altri casi l'informazione implicita è un salto psicologico che spetta a chi legge col mare. Pensiamo ad esempio al titolo di questo reale articolo di cronaca. Dimentica una sigaretta accesa e scatena l'incendio in casa. Distrutta la camera da letto. Noi inferiamo che vi sia un rapporto di causa-effetto tra l'aver dimenticato la sigaretta e l'incendio che ne ha seguito. Ma questa informazione non è data esplicitamente dal titolo e a dire il vero neppure dal testo dell'articolo. E la dobbiamo cogliere in quanto implicita. In altri casi l'informazione implicita può essere legata alla distanza storica o culturale tra chi ha scritto il testo e chi lo legge. In casi del genere le informazioni necessarie per riempire il vuoto del non detto possono essere molte e complesse. Questo capita ad esempio quando si affronta la lettura di testi letterari del passato. Vediamo un esempio tratto da un brano di Charles Dickens, Passeggiate notturne da perdersi a Londra. Il protagonista, in preda all'insonnia, vaga di notte per la città di Londra e a un certo punto deve attraversare un ponte. Il testo dice «Il vagabondo, infatti, voleva avere una scusa economica per dire buona notte al gabelliere e riuscire a cogliere un barlume del suo fuoco». Era confortevole vedere insieme al gabelliere un bel fuoco, un bel impermeabile e una bella sciarpa di lana. Anche la sua energica insonnia era un'eccellente compagnia quando faceva tintinnare il resto del mezzo penny su quella scatola di metallo, come un uomo che sfidasse la notte con tutti i suoi tristi pensieri e a cui non importasse dell'arrivo dell'alba. Cosa c'entra il mezzo penny con il passare a piedi attraverso un ponte? Cosa ci fa un addetto alle tasse su un ponte? Se la risposta è che fa la guardia, per quale ragione questo compito spetta a lui, a un gabelliere? A cosa fa la guardia e perché? Per capire correttamente il testo occorre sapere che a quei tempi era previsto il pagamento di un pedaggio, una gabella, tassa, per attraversare anche a piedi alcuni ponti. Un'esperienza abbastanza lontana da ciò a cui siamo abituati. Ci capita semmai in auto di pagare pedaggi, che ci impedisce di rappresentarci correttamente il contenuto del testo letterario. Non mancano casi in cui l'implicito è legato a regole pragmatiche non espresse, che rischiano di minare la comprensione reciproca, se fraintese. Ad esempio, se in una stanza con diverse persone riunite comincia a far freddo e qualcuno chiede a chi è seduto vicino alla finestra, puoi chiudere la finestra? L'informazione non è tanto la risposta alla domanda se è in grado di chiudere la finestra, con la risposta che ci farebbe sorridere sì, posso chiudere la finestra, ne sono capace, ma la richiesta cortese di chiudere la finestra per fare in modo che la temperatura si alzi. È una domanda che nasconde una richiesta di fare qualcosa, una convenzione pragmatica implicita nella conversazione. Ecco un altro esempio. Sai che ore sono? La risposta chiaramente non è sì, so che ore sono, ma comunicare l'ora all'interlocutore. Qui l'informazione esplicita dice qualcosa di diverso da ciò che implicitamente è importante capire per poter interagire correttamente con il nostro interlocutore. Questi sono solo alcuni esempi dei possibili tipi di impliciti che possiamo incontrare in un testo. Un lettore esperto traduce l'informazione implicita senza neppure accorgersene. Altre volte il lettore inciampa sul non detto. Nota Marina Sbisà in detto non detto, è sempre difficile soffermare la propria attenzione sull'implicito, perché l'implicito in quanto tale è predisposto proprio per non essere messo a fuoco. Inoltre, per renderci conto della funzione dell'implicito nella comprensione di testi, dobbiamo cominciare col fare attenzione a quest'ultima, e neppure ciò accade spontaneamente. Studiare i presupposti e i sottintesi, essere in grado di riconoscerli, stanarli, formularli esplicitamente, è aumentare la nostra capacità di comprendere testi. Notare e svelare l'implicito non è quindi qualcosa di spontaneo, va esercitato. Spesso, per verificare che lo studente abbia capito il significato del testo o di alcuni suoi passaggi, le prove invalsi chiedono di esplicitare un'informazione implicita. Nel seguito del video vedremo alcuni esempi di quesiti di questo genere. Infine, alcuni insegnanti proporranno dei percorsi digattici per abituare i nostri studenti a svelare il non detto. Proseguiamo il discorso che abbiamo iniziato analizzando alcune domande sugli impliciti nella comprensione di testi scritti assegnati nelle prove invalsi. Un testo, infatti, è fatto di quel che si dice o si scrive, ma anche di quel che non si dice e non si scrive. E ancora, il grado di implicitezza di un testo è sempre e intuitivamente diverso da testo a testo ed è nascosto nelle pieghe del testo che si legge. Il testo della prova del 2017, disponibile nella versione integrale al link in descrizione, è tratto da un racconto di Raffaele la capria. Ne leggiamo ora un estratto. Guardandolo, il gufo, si sorprese a pensare a tutte le creature, uomini, animali e uccelli, gettate senza un perché su questa terra, come lui era stato gettato in quello studio televisivo. Vediamo la domanda. Lui, il gufo, era stato gettato in quello studio televisivo. Con quale intendimento l'autore ha usato qui il verbo gettare? Sottolineare la violenza che il gufo ha dovuto subire in un luogo e in una situazione a lui estranei. Mettere in evidenza l'indifferenza dei presentatori per la presenza fuori luogo di un gufo in uno studio televisivo. Far capire che prima di entrare nello studio televisivo il gufo aveva provato a ribellarsi e quindi vi era stato portato a forza. Mostrare in sofferenza per l'eccessiva presenza di animali nelle trasmissioni televisive. I dati dicono che la domanda risulta di media difficoltà. Risponde correttamente il 63% degli studenti. Per rispondere correttamente gli studenti devono cogliere l'uso connotato del verbo gettare, che riassume decisamente il senso della violenza fisica e morale del gesto. La domanda non è semplicemente semantico-lessicale, va oltre. Ciò che deve orientare la risposta verso l'opzione A, quella corretta, è l'implicita estraneità, sottolineata in più punti del testo, del luogo e della situazione per il povero gufo, l'irrazionale strumentalità della sua apparizione in un contesto per lui assurdo. I tanti impliciti relativi al gufo dicono che è un animale aristocratico che vive in luoghi non artificiali e non umani. D'altra parte, già il titolo del breve racconto in forma di cronaca personale, Sua maestà il gufo acceccato dalle luci, dà in sintesi il senso del testo e deve quindi rappresentare un primo significativo indizio per arrivare alla corretta soluzione del quesito. anticipa innanzitutto il tratto della regalità del gufo e implicitamente il peso dell'umiliazione che l'animale avrebbe subito nella sala della ripresa televisiva. Subito dopo fa intravedere nelle luci accecanti lo strumento della violenza fatta su un animale che veniva dai suoi ascosi rifugi notturni. E ancora, tutto il primo capoverso celebra la misteriosità e l'aristocraticità dell'animale che appartiene al mondo oscuro della natura. Tutto il testo, d'altra parte, è giocato sulla cecità, compresa quella di migliaia di prigionieri accecati dopo una battaglia vinta dei bizantini, tema della trasmissione televisiva, e sull'insofferenza alla luce del gufo reale. La poesia che leggiamo ora è tratta dalla prova dell'anno 2012. Si tratta di un testo di Vittorio Sereni ed è intitolata Via Scarlatti. Con non altri che te è il colloquio. Non lunga tra due golfi di clamore va tutta case la via, ma l'apre d'un tratto uno squarcio, ovi rompono sparuti monelli e forse il sole a primavera. Adesso dentro lei parsera, oltre anche più sabbuia e cenere e fumo la via, ma i volti, i volti non so dire. Ombra, più ombra di fatica e d'ira. A quella pena irride uno scatto di tacchi adolescenti, l'improvviso sgolarsi d'un duetto d'opera a un accorso capannello. E qui t'aspetto. Vediamo insieme la domanda. Quale delle seguenti frasi è la parafrasi di dove rompono sparuti monelli, dove all'improvviso arrivano correndo dei bambini magri e patiti, dove appaiono a un certo momento dei bambini dispettosi, dove si muovono avanti e indietro dei bambini spauriti, dove dei bambini arruffati e sporchi camminano e giocano. La domanda risulta difficile. La risposta corretta è data solamente da uno studente su quattro. Consideriamo che il linguaggio della poesia è linguaggio rarefatto, lontano dalla lingua della comunicazione ordinaria, ed è fortemente implicito. La domanda chiama dunque in causa la capacità di sciogliere e comprendere correttamente dati impliciti. Il compito richiesto non si limita a indagare la competenza semantica su singole parole, ma a verificare la capacità di combinare insieme, coerentemente, significati nascosti e presenti in singoli termini, come irrompono e sparuti, più o meno ricchi di significati polissemici. Il testo è preceduto da una breve presentazione, con la quale si danno le prime e necessarie informazioni sui tempi e sui luoghi della poesia. La poesia è stata scritta da Vittorio Sereni nel 1945, in occasione del suo trasloco in via Scarlatti a Milano. La Seconda Guerra Mondiale era appena finita e Milano era stata pesantemente bombardata. Il poeta aveva già avuto esperienza diretta della guerra come soldato. Gli impliciti risiedono soprattutto nell'idea delle conseguenze che una guerra finita lascia, tale impliciti rappresentano lo sfondo necessario per comprendere il significato di parole polissemiche interrogate dalla domanda. I monelli qui non sono i bambini dispettosi o eccessivamente vivaci o i bambini troppo irrequieti che corrono da un luogo all'altro. Non sono bambini descritti per il loro disordine e la loro trascuratezza. Sono al massimo bambini che gridano, come sembra di capire dal verso tre. Non lunga, tra due golfi di clamore, va tutte case la via. Lo sfondo che deve guidare nella scelta dell'opzione corretta, la A, è dato dall'idea degli effetti che una guerra appena finita ha provocato. Tale sfondo deve indurre gli studenti a individuare nelle singole parole i tratti e i significati che contribuiscono coerentemente a restituire l'immagine complessiva che il poeta dà del testo. Dalla prova dell'anno 2016 leggiamo una parte tratta dal testo di Gerardo Colombo, la democrazia. L'autore dice che la democrazia è un sistema di governo imperfetto perché è fatto dagli uomini, è faticosa, impegnativa, difficile e allo stesso tempo la modalità di convivenza che permette a ciascuno di realizzarsi. Perché la democrazia si realizzi è necessario il rispetto della dignità e dell'uguaglianza degli altri. Ma leggiamo ora le parole dell'autore. La pratica della democrazia è difficile e faticosa perché ancora non si è diffusa a sufficienza l'apprezzamento per la parità delle opportunità e per la diffusione della libertà. Per troppi la democrazia significa conquista dell'uguaglianza con chi ha maggiori possibilità, ma mantenimento della disuguaglianza con coloro che di possibilità ne hanno meno. È necessario che si modifichi questo atteggiamento mentale e, come sempre è successo, via via che le persone prenderanno consapevolezza di quanto essenziale sia il rispetto della dignità e dell'uguaglianza, che vuol dire il rispetto degli altri, sarà per loro meno difficile impegnarsi e partecipare per attuare e conservare quotidianamente la democrazia. Vediamo ora la domanda. Secondo l'autore, quale condizione più di ogni altra rende meno difficile la pratica della democrazia? La consapevolezza della necessità di rispettare gli altri. La libertà e la parità delle opportunità tra uomini e donne. Il dialogo e il confronto con gli altri l'impegno e la partecipazione assidua. La domanda, che può apparire di semplice ricerca e ritrovamento di un'informazione, distingue tra elementi che l'autore considera costitutivi della democrazia e quindi i suoi presupposti e condizioni implicite e necessarie al superamento delle difficoltà nel praticarla. Possiamo osservare che tutte le risposte hanno un esplicito rinvio al testo e ogni affermazione è presente nel testo. La domanda è risultata difficile per gli studenti, infatti solo il 40% sceglie la risposta corretta, la A. La difficoltà risiede nel distinguere nel testo elementi costitutivi di un sistema di governo, da ciò che nella pratica ne impedisce la realizzazione. L'implicito è che, se la democrazia è uguaglianza, per la sua realizzazione l'uguaglianza deve essere riconosciuta anche a chi ha meno. Consideriamo ora il testo Occhio alla salute, un testo espositivo regolativo assegnato nella prova 2012. Il testo è costruito su due figure che rappresentano la prima l'Italia diversamente colorata in relazione alla presenza dei fenomeni di sovrappeso e obesità nei bambini di 8-9 anni della terza primaria. La seconda mostra due tabelle accostate che danno le percentuali delle cattive abitudini alimentari e dei comportamenti sedentari degli stessi bambini. Leggiamo ora la domanda. A che cosa servono i dati statistici presentati dall'autore? A dimostrare che molte malattie sono dovute alle cattive abitudini di vita e all'eccesso di peso dei giovani? A lanciare un allarme sulle alte percentuali di bambini italiani con eccesso di peso e con cattive abitudini di vita? A far vedere come si distribuiscono le percentuali di bambini con eccesso di peso nelle diverse regioni d'Italia? A far capire che l'attività fisica è essenziale per la salute dei bambini di 8-9 anni? La domanda è risultata di media difficoltà. Sceglie la risposta corretta, la B, il 62% degli studenti. Vediamo ora una serie di impliciti che possono guidare per rispondere correttamente a questa domanda. Un indizio per comprendere l'implicito, lanciare un allarme, è dato dal titolo Occhio alla salute, che richiama l'attenzione dei lettori sui due gravi problemi che interessano la salute delle giovani generazioni. Il secondo indizio, del quale gli studenti devono tener conto, è dato da alcune espressioni, presenti sia nel testo sia nelle tabelle che indicano implicitamente lo scopo del testo, lanciare un allarme. Concludendo, perché è importante indagare la capacità di ritrovare, esplicitare, chiarire impliciti e presupposti in un testo? I motivi sono molteplici, tanto che Marina Sbisà si chiede se non sia il caso di pensare e di parlare di una didattica dell'implicito. Dice infatti studiare i presupposti e i sottintesi, essere in grado di riconoscerli, stanarli, formularli esplicitamente, è aumentare la nostra capacità di comprendere testi. È inoltre aumentare la nostra capacità di usarli per apprendere le informazioni che ci danno, ma anche eventualmente per metterli in discussione. Infine è aumentare il nostro controllo sulla nostra stessa comprensione, ricondurla a delle regole, perché il riconoscimento di impliciti può e deve essere motivato. Per comprendere un testo è quindi necessario andare oltre la sua superficie, vale a dire oltre le parole che sono scritte. Capire un testo è sempre cooperare con l'autore per fargli dire quello che legittimamente in quel testo ha inteso volutamente dire o tacere. E questo vale sia per i testi d'uso, per i testi di divulgazione, per i testi di studio, sia per i testi letterari. Andare oltre la superficie del testo significa incontrare e capire metafore, figure retoriche, quali l'ironia, cogliere appunto sottintesi, allargare in sostanza la semantica di un testo. I materiali relativi alle prove e alle domande che abbiamo visto sono disponibili nei link in descrizione. Vediamo ora alcune buone pratiche di esperienze didattiche proposte da docenti per lavorare sulle presupposizioni e gli impliciti del testo. Buongiorno, mi chiamo Michele Ruele, mi occupo di ricerca didattica, di formazione e di editoria scolastica e insegno italiano e latino in un liceo scientifico di Trento. Tra le attività inerenti il vasto tema delle inferenze, ne ho scelte una nell'ambito della letteratura e una in quello della comunicazione in generale. Infatti, fra le tante, tratteremo di due forme con le quali si presentano le inferenze. Le lissi in ambito letterario e poi le presupposizioni nei messaggi pubblicitari. Sono due dei modi in cui si attiva il rapporto fra autore e lettore, in particolare il ruolo del lettore collaborativo, che costruisce se stesso con la lettura, ma anche costruisce contemporaneamente il testo. Sui modelli delle attività proposte, poi, si potrà replicare lo schema anche riguardo ad altre caratteristiche delle inferenze e del non detto nei testi. Vi segnalo fin d'ora che nella descrizione del video potete trovare la versione integrale dei testi che vengono utilizzati. Si tratta di esperienze adatte per la scuola secondaria superiore di secondo grado, sia nel bienio, sia più tardi, con i dovuti aggiustamenti e approfondimenti da parte del docente di italiano. Iniziamo dalla letteratura e, in particolare, da un esempio famoso, cioè il passaggio dal capitolo quinto al capitolo sesto nel romanzo di Gustave Flaubert, L'educazione sentimentale. Esamineremo l'ellissi e i suoi effetti e la confronteremo con altri usi in altri autori. Poi presenteremo alcuni laboratori in cui impegnare attivamente gli studenti. Ci concentreremo sull'ellissi, ma ci accorgeremo che spesso l'effetto di questa procedura negli scrittori si accompagna anche con l'allusione a oggetti o a caratteristiche dei personaggi che riguardano fatti o qualità chiave. Si tratta di nodi della trama su fili che si ripresentano poi in altri punti del racconto. Insomma, oltre a non dire, gli scrittori affidano al non detto una funzione di continuità nel resto del testo e tale continuità prende la forma di quella che viene chiamata metonimia narrativa. Ma concentriamoci sull'ellissi. Nel romanzo di Flaubert il protagonista Frédéric Mouraud ha tre illusioni. L'amore, la realizzazione di sé, la politica. Tutte e tre traballano e alla fine del quinto capitolo stanno per essere disilluse. Il capitolo si chiude con una scena drammatica. La rivoluzione a Parigi è fallita e i suoi due compagni di lotta sono ora su due diversi fronti. Anzi, uno dei due ammazza l'altro. Il ritomo della scena è rapidissimo grazie al non detto. Du Sardier cade su Pino. Non si dice che riceve il colpo. Ma quel maestro della narrazione che è Flaubert crea il suo capolavoro nella pagina successiva. Finisce qui il capitolo quinto. Giriamo la pagina e all'inizio del capitolo sesto in tre righe passano sedici anni. Viaggiò. Tornò. Tutto qui. Il destino si compie. L'educazione sentimentale si compie nei viaggi e nella malinconia degli anni. L'effetto dell'ellissi è di farci immaginare il contenuto sentimentale di tutti questi anni e di prepararci alle conferme che troveremo nelle pagine successive. Quindi abbiamo un ritmo rapidissimo e la preparazione, la sospensione o suspense. Ecco, sedici anni dopo Madame Arnoux va in visita da Frédéric. I due si svelano e anche noi capiremo quale diverso cammino esistenziale abbiano compiuto in tutto questo tempo. Madame Arnoux posa un borsellino sul cammino. Sembra un dettaglio che serve solamente a creare l'ambiente, a farci vedere qualcosa che lei fa. Ma un paio di pagine dopo rieccolo. Madame Arnoux vuole restituire dei soldi all'uomo che è amato e che forse ancora ama. La sua mentalità utilitaristica e la sua paura delle passioni, ciò che ha rovinato il destino di entrambi, forse, è riassunta in quel borsellino. Il sentimento, la disposizione d'animo e le intenzioni della donna non sono raccontate, ma sono riassunte nel non detto. È bene sempre fare delle domande agli studenti. Chiediamo agli studenti quali sono gli effetti di questi procedimenti stilistici. Poi possiamo presentare un confronto da una pagina del Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Se Flaubert ci racconta un destino e una condizione esistenziale in divenire, Fitzgerald ci descrive il carattere passivo e acquiescente di un personaggio specchio come Nick, per mezzo, anche in questo caso, del non detto. Altri testi adatti al confronto sono due racconti di Giovanni Verga, Rosso Malpelo, soprattutto nell'Incepit, e La Lupa, soprattutto nel finale. Faremo lavorare ancora gli studenti, invitandoli a trovare ellissi narrative e invitandoli a presentarle ai loro compagni. Ne troveranno molte, sia nelle opere letterarie, sia al cinema, nelle serie tv oppure nei fumetti. Passiamo ora all'altro argomento. Le inferenze sotto forma di presupposizioni sono frequenti nei discorsi persuasivi, per esempio nella pubblicità. Per persuadere non sempre conviene dire esplicitamente ciò che sta a cuore, è meglio far passare il messaggio per via indiretta. Il discorso della politica, per esempio, è fatto spesso in questo modo, ma anche molti altri discorsi argomentativi sono costruiti sulla presupposizione, anche quelli quotidiani. Conoscere i meccanismi della presupposizione significa non farsi persuadere facilmente e significa governare il discorso in ricezione e in produzione. Il non detto può basarsi su presupposizioni, su implicazioni o su inferenze logiche. C'è però molta intersezione fra queste procedure, che sono tutte quante forme dell'inferenza. Nelle presupposizioni, in particolare, una persona o un fatto o uno stato di cose o un significato, non vengono esplicitamente espressi, ma la loro esistenza è presupposto dalla semantica, di solito del verbo, o da un altro elemento del testo. Tutti presupponiamo, diamo per scontato, che i francesi creino profumi buonissimi e cosmetici sopraffini che ci fanno essere più belli ed eleganti e che l'inglese sia la lingua che meglio corrisponde a un'eleganza internazionale, all'efficienza e alla perfezione tecnologica. Se dunque nelle pubblicità si usano il francese e l'inglese, ecco che il prodotto acquista le qualità corrispondenti. Non c'è niente di esplicito, si tratta di collegamenti dettati dalle nostre enciclopedie personali, dalle nostre cornici di senso e dalla cultura condivisa. Una rassegna di headlines, di frasi prese a caso su un quotidiano o su una rivista, ce ne presenterà a volontà. Se al nome del profumo associamo Sassanbeau, Eau de Parfum, Eau de Toilette, anche se non conosciamo il francese, associeremo per inferenza le qualità di bontà suggerite dalla lingua, all'emozione che ci farà desiderare di avere quel profumo e di essere come quel cosmetico. Lo stesso vale per l'inglese, ma nel campo della tecnologia, delle automobili, insieme al tedesco, e della moda. Superior Kashmir e Ultralight Kashmir non solo suonano diverso rispetto a Kashmir superiore e Kashmir leggerissimo, ma letteralmente significano qualcosa di diverso grazie alla presupposizione e all'inferenza. Nei testi le presupposizioni veicolano il contenuto per via traversa, non direttamente. Se dirò, ieri il mio vicino avvocato mi ha regalato la sua Porsche, nessuno mi crederà. Ma il mio scopo non era parlare della Porsche, bensì far sapere che ho un vicino avvocato e questa informazione ultima si stamperà nella mente del mio interlocutore. I pubblicitari questo lo sanno bene. Nell'headline osservateli e vedrete che anche quelli che vi affascinano di più non costano mai una cifra irraggiungibile, è una marca di orologi, ciò che conta non è il prezzo, né l'invito ad osservare, ma il presupposto suggerito da una proposizione relativa in questo caso, che quelli sono davvero orologi affascinanti. Se leggiamo la sicurezza di una marca di automobili non va mai in vacanza, buone vacanze da queste automobili, il messaggio non è quello letterale, bensì quello suggerito, presupposto e implicato, cioè che le auto di quella marca sono sicure e piacevoli. La domanda a tutta pagina di un fabbricante di computer è, siete ancora competitivi? Ma le presupposizioni, gli impliciti da ricostruire, per inferenza, sono, potrei non essere competitivo e solo con quel microprocessore lo sarò di nuovo e sicuramente. Un produttore di lampadine mi vuole persuadere che le lampadine che ho a casa sono vecchie e vanno cambiate. Mi dice, è semplicissimo sostituire la vecchia lampadina avvitando al suo posto il nome della sua marca. Ma quello che conta non è quello che c'è scritto, bensì quello che non c'è scritto. Il punto non è che avvitare una lampadina è facile, questo già lo so, bensì che le mie lampadine sono vecchie e che cambiarle sarà facile. Avremo indagato questi procedimenti con gli studenti ricavandoli da testi continui e misti e dai giornali in particolare. Il laboratorio di attività e di verifica per gli studenti consisterà nel reperimento e nella rassegna da parte della classe di esempi simili a questi, basati sullo stesso dispositivo stilistico e retorico. Altri ambiti possono essere affrontati, la politica, il parlato quotidiano, l'informazione. Gli articoli di giornale, sia di cronaca sia di genere argomentativi, sono molto utili a questo scopo e un campo di rilievi per lo scavo da parte degli studenti. Esempi e approfondimenti si trovano negli studi di Edoardo Lombardi Vallauri. Ricordiamoci di mantenere i nostri studenti sempre attivi e protagonisti. Grazie e buon lavoro. Si conclude con questi esempi di buone pratiche il percorso sugli impliciti nel testo, che abbiamo iniziato con una presentazione teorica e affrontato dal punto di vista delle domande invalsi. Tutto ciò ci ha mostrato le potenzialità didattiche del lavoro sugli impliciti. Aspetta ora a voi insegnanti che ci avete seguito fin qui, in questo itinerario, portare nelle vostre classi questi stimoli a seconda delle esigenze dei vostri studenti. Grazie per l'attenzione.